R101 No, no, mi faceva ridere questo fatto perché appunto io sto facendo questa tournée teatrale e quindi appunto vedo questa grande preparazione, questa emozione anche delle altre mie colleghe Cene di buon auspicio No, cene di buon auspicio, io sono a mangiare la rustichella in autogrill Che sei in giro in tournée Perché sono in giro in tournée, prima con lo spettacolo, il mio monologo, una ragazza come io, adesso con quello di Dario Foy-Francarame, coppia aperta, quasi spalancata Quindi ho gli occhiali perché sono arrivata stanotte alle 4, a Ravenna, un pochino Va bene, va bene, ma non c'è bisogno perché tanto la tua energia, eccola, te li sei tolta Dai, però dai, non sono proprio da buttare, certo No, no Ho un chile e mezzo di ciglia finte, però Sei una bella fia, come si dice Tu di dove sei? Io sono milanese Ah, milanese Milanese Allora, dai, dici com'è stato questo chiamino per Sanremo Allora, questo chiamino, ero appunto in tournée però con il mio monologo, ero ad Asti Sì, ed ero in questo posto anche un po' medievale, ero in questa Quindi Asti rimarrà per sempre negli anni come luogo Asti per sempre, tra l'altro ero nella camera 700, quindi avevo un letto a Baldacchino Era un momento anche abbastanza peculiare, quindi niente Con il fidanzato svedese o senza? No, ero in tournée, con il mio produttore teatrale Pierfrancesco Pisani e con il maestro Lei Neri, che è il maestro che mi accompagna E a un certo punto, era appunto questa mattina, che era anche un po' augiosina perché pioveva E mi arriva questo whatsapp, che si illumina lo whatsapp e c'era scritto appunto da un numero sconosciuto Perché io, ah ma l'ho visto soltanto tre volte quando sono andata ai soliti Quindi ti ha scritto proprio lui? Sì, sì Ciao, ti voglio con me al festival di Sanremo No, no, ma scusate buongiorno Ah no, perché uno muore lì nella camera 700 Qua del 700, sì appunto, facevo la fine di Maria Antonietta E quindi c'era tanto scritto, hai visto come quando ti arrivano i whatsapp l'incipit Buongiorno, sono Amadeus Io mi sono sentita male, quindi sono andata dal mio produttore Prima ho scritto al mio agente e gli ho detto Ma Umberto, Umberto Chiaramonte, ma sei te? Mi stai facendo uno scherzo? Nel momento in cui mi ha detto di no Gli ho detto, mandami il numero di Amadeus Però prima di questo sono andata con il cellulare in mano al mio produttore E gli ho detto, aprilo te, aprilo te perché non ce la fa Non ce la fa Quindi dopo appunto ci sono stati questi dubbi Ho chiesto a Umberto, però poco dopo mi è arrivato il vocalone Il vocalone che mi diceva domenica Amadeus manda i vocali di quanti minuti? No, brevi Brevi? E no, è molto proprio super educato E l'hai ascoltato? Velocizzato di due o rigoroso? No, in quel momento l'ho pigiato E appunto c'era scritto, c'era scusa Lui diceva, ciao Chiara, vado Sto andando a fare un annuncio al TG Famosi annunci di Amati Chiamo dopo un'ora E quindi lì però c'era questa cosa Ma secondo te? Poi tra l'altro ero con questi due miei amici Che sono anche un pochino digiuni Tu per me dovevi dirgli mi spiace non posso Sono molto impegnata a teatro Ma no, ma io sono sincera E quindi mi ha detto mi avrebbe chiamato dopo un'ora E quindi ero lì che fantasticavo Ma forse sto sbagliando tutto Mi vuole semplicemente dire Perché poi le pensi tutte, no? Dici magari Ho pensato magari fosse Sanremo Però ho detto Bah magari mi vuol far fare una cosa insieme a tante Una roba dagli spalti da lontano No, una roba dagli spalti Però magari quelle cose Non so, qualcosa insieme a tante persone Ecco non pensavo che Vabbè e invece sei qui Sarà la tua serata venerdì Venerdì Ti guarderemo e ti ferò per te Si dice melma, melma, melma Perché non posso dire con Non si può dire Ma diciamo, lo possiamo dire Cacchina, cacchina, cacchina Merda, merda, merda Chiara Francini spacca tutto Sfin sopra la testa Vieni che ti tocca anche le chiappette Ah sì, vieni Vai Vai Così hai la benedizione di R101 Grazie Grazie a te, Chiara Francini I microfoni di R101 Grazie Grazie, Riccilla Ti ha pestato anche il piede Oh no Non ho sentito niente Grazie Grazie R101 Uno